Questa è la situazione dietro il palazzetto dello sport. Poi guardate, guardate come siamo messi, le macchine tutte parcheggiate nell'erba, qui non si può parcheggiare. Guardate, guardate che roba è, sembra una sommossa una guerra, guardate, tutti schierati. Io che abito in via Corelli 9 non sono potuta entrare, i testi di cavolo invece che fanno una partita, tutti belli scortati, guardate, nessuno che si preoccupa di noi, che siamo praticamente blindati dentro casa per colpa di questa cosa. Sono 30 anni che va avanti sta storia. È il video di sfogo che una residente nel quartiere San Lazzaro a Fano ha inviato ieri sera alla nostra redazione per mostrarci i disagi subiti dai residenti a causa del blocco temporaneo delle vie d'accesso allo stadio Mancini. Alle 20.30 infatti si è disputata la partita tra l'Alma Juventus Fano e la Ternana. 1.070 spettatori, di cui 330 ospiti, hanno indotto le forze dell'ordine, come da prassi, a presenziare in modo massiccio per garantire la sicurezza. Una cinquantina gli agenti provenienti dai commisariati di Fano, Senigallia e persino Bologna. La situazione che si è venuta a creare, però, non è piaciuta a qualche nostro telespettatore che ci ha voluto mettere al corrente delle difficoltà che devono affrontare i residenti per rientrare in casa durante gli incontri sportivi importanti o comunque con la presenza di molti tifosi. E ieri l'ennesimo episodio li ha fatti infuriare e in particolare una signora rimasta fuori con le buste della spesa in mano. Non riesco a entrare dentro casa per colpa della partita. Vi rendete conto? Questo il prefetto lo deve sapere. C'è gente che non riesce a camminare, anziani, bambini. Io con la spesa alle otto e mezza sono ferma per la strada, non posso rientrare fino alle undici. Questa è un'indecenza, almeno i residenti fatti entrare. La chiusura delle vie limitrofe al Mancini è sempre prevista negli orari di ingresso e di uscita dei giocatori ospiti e dei tifosi, che tra l'altro ieri sera sono arrivati in ritardo a bordo di auto e pullman, quindi il blocco totale sarà durato all'incirca 20 minuti e mezz'ora. Ma il vero problema dovrebbe essere risolto a monte. Lo stadio, infatti, chiamato inizialmente Polisportivo Borgo Metauro, fu inaugurato nel 1930, quando tutti questi palazzi all'epoca non c'erano. Era un posto tranquillo, lontano dal centro storico e dalle abitazioni. Va da sé, quindi, che l'impianto dovrebbe essere ripensato e collocato altrove. Intanto, questa mattina, noi abbiamo raccolto la testimonianza di altri residenti. Sarà una sicurezza, sarà, però, a noi residenti che abitiamo qui è un problema. Era in casa? No, ero fuori, sono ritornato, ho dovuto mettere la macchina a 200 metri da qua e rientrare a casa a piedi. Vi avevano avvisati di questo disagio? Si sa, si sa. Praticamente qui non vogliono niente, perché dobbiamo mettere le macchine nel prato. Quando vogliono loro va bene, quando non vogliono loro ci fanno le multe. Io, infatti, dovevi venire a mia madre perché si è fratturato il braccio, ho dovuto lasciare la macchina dietro, venire a piedi. È così, hanno chiuso l'ingresso là e non fanno entrare. Ma lo fanno sempre comunque. Ormai siete abituati, insomma. Sì, siamo abituati. E il problema è per chi ha bisogno, anziani? Se devi uscire, ti fanno uscire. Il problema è per entrare. L'ingresso, sì. Ieri avete subito disagi? Sì, ma non solo ieri, anche nelle altre domeniche quando c'è il Fano che gioca in casa e magari le partite un po' più importanti, diciamo, i derby. Il punto è che un po' anche esagerano, tipo io abito in questa palazzina e qui liberano tutto lo spazio, anche perché dopo a noi ci fanno togliere le macchine, dopo arrivano questi da fuori e li fanno parcheggiare tutti qui sotto qui, casa nostra. I disagi ci sono anche perché questi scendono dai pullman, cominciano a fare la pipì sui muri, qui là sono bottiglie in giro, ecco. La sicurezza c'è, non è che neanche, come si dice sempre, è sempre poca, non basta mai. Però tante volte devono essere anche un po' più elastici. No, non mi hanno fatto passare. Mi sono fermato qua agli spogliatoi, ho scaricato mia moglie e poi dopo sono dato qualcuno e adesso sono venuto a casa a piedi. Un po' di pazienza avete dovuto. Tanto capita. Capita. Qua è così. E va bene, purtroppo è così. Quanto ci sono le partite qui è così. Va bene, ci vediamo.